Dopo due album piuttosto sperimentali, vedi discografia, in cui si mescolavano rock, rap, grime, folk ed elettronica, ha preso la strada del cantautorato folk rock. Il 14 novembre 2010 esce un album con la band San La Muerte, dal titolo omonimo, in cui Leo Pari suona, canta e compone. Le sonorità questa volta si muovono sui confini del rock, blues, lofi. Nel gennaio 2012 esce, Resina, un disco prodotto artisticamente dallo stesso Leo Pari in collaborazione con Marco Fabi, dove hanno suonato, Leo Pari, voce, chitarre, piano, sintetizzatori, Roberto Angelini, chitarre slide, Pier Cortese, iPad, Andrea Pesce, pianoforte, Samuele Matteucci, piano, synth, chitarre. Emanuele Guido Boni, basso, Pietro Sinatra, batteria, Jeff Mancini, chitarre, con, resina. Leo Pari spegne computer e campionatori e torna alle radici del folk rock. Oltre all'attività di musicista Leo Pari gestisce insieme ad altri amici e collaboratori uno studio, di registrazione ed un'etichetta musicale dal nome Gas Vintage Records. È autore di diverse canzoni di successo interpretate da Simone Cristicchi. L. 8 novembre 2013 esce, Sirena, secondo capitolo di una trilogia iniziata con il precedente, Resina. Registrato presso i Gas Vintage Studios di Roma. Vanta la collaborazione di Daniele Rossi HMR. Cofè, già collaboratore di Niccolò Fabietti Romancino. Sirena è stato mixato da Tommaso Colliva. After Hors, The Muse, Calibro 35, Dente, Leo Pari. Inoltre dal 2010 fonda l'etichetta discografica indipendente Gas Vintage Records, con sede a Roma, per la quale produce, oltre ai suoi stessi album, Discoverland, il progetto di rivisitazioni musicali di Pier Cortese e Roberto Angelini, The Elephant, e due compilation di musicisti della scena indipendente italiana. Rispettivamente Gas Vintage Super Session Vol, 1 e Vol, 2, dal 2013 Leo Pari è membro del collettivo Dal Pane insieme a Roy Paci, Roberto Angelini, Pino Marino, Francesco Forni ed altri.